Prendevano le società e le facevano lentamente fallire, portando via quanto più di buono c'era nella produzione nei beni mobili e immobili, lasciando i creditori con il cerino in mano, come si suol dire. La Guardia di Finanza di Padova ha eseguito stamattina quattro ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari a carico di Angelo Berno, ex sindaco di Tombolo, già coinvolto in una identica indagine lo scorso anno insieme al commercialista Giuseppe Larocca. Le società venivano depauperate di tutto l'attivo, di tutti i beni patrimoniali, beni mobili e immobili, che venivano distratti con operazioni anche privi di una valida ragione imprenditoriale, economica, razionale, e venivano distratte e fatte convogliare in nuove società create dagli stessi soggetti. I beni, stando a quanto ricostruito dai finanzieri che hanno avviato l'indagine a seguito della segnalazione fatta dalla procura, sarebbero finiti nominalmente in una ditta con sede a Lubiana. In realtà i finanzieri hanno trovato due Mercedes e conti correnti vari in disponibilità degli altri due arrestati, Luciano e Michele Marin, di Padova. Il buco provocato nelle società defunte è di 9 milioni e mezzo di euro. Ora le indagini continuano a caccia di altre società svuotate in beffa ai creditori. Grazie a tutti.